C'è un problema di continuità non ancora riconosciuta dal governo per 3500 lavoratori ancora, se non sbaglio. Il vostro impegno è intanto quello di ascoltarli e poi farete qualcosa perché oltre ad l'Italia, diceva lei, questo è un problema che può anche essere un precedente pericoloso per il futuro. Assolutamente, in questo decreto c'è questo articolo che appunto crea questo precedente molto pericoloso che va a bloccare tutti i ricorsi che stanno facendo in questo momento i lavoratori di Alitalia per poter entrare in ITA. Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo che non è stato votato dalla maggioranza in commissione, oggi il governo sicuramente mette la fiducia a questo decreto, pertanto ovviamente passerà il decreto così come è stato presentato da questo governo. Sicuramente è un precedente pericoloso per altre imprese che in futuro potranno essere cedute, per esempio oggi possiamo pensare all'azienda TIM che viene ceduta.